Presentiamo i dati di fine mandato, un periodo dal 2008 al 2013, quali sono i dati che emergono? Abbiamo creato qualcosa come quasi 500 alloggi con una spesa di 56 milioni di euro. Nel frattempo abbiamo mantenuto i 6.000 alloggi di nostra proprietà, spendendo solo per la manutenzione ordinaria, sempre nei 10 anni, 25 milioni di euro. Aller poi ha speso, ha messo a disposizione 400 mila euro per far fronte alle difficoltà degli inquilini, col contributo di solidarietà. L'attività si è svolta per creare una macchina più efficiente all'interno, quindi riorganizzazione aziendale, assegnazione degli uffici, dei compiti, ha consentito per esempio di ridurre i tempi di evasione di molte pratiche. Per ripristinare un alloggio, che è stato abbandonato da un inquilino e ne subentra un altro, quando siamo arrivati ci volevano 44 giorni, adesso i giorni sono 13. Quindi l'obiettivo è anche snellire la pratica burocratica. E certo, noi non possiamo chiedere efficienza agli altri e non a noi stessi. E invece qual è il confronto tra le richieste di alloggio e gli alloggi stessi? Solo a Bergamo ci sono un migliaio di domande in graduatoria, in evase. Siamo a circa 250 e 300 alloggi che verranno pronti quest'anno. Le prospettive per il futuro, non solo per il 2013, sono legate al progetto di Regione Lombardia di fare delle ALER un'agenzia centrale. L'auspicio è che in questa opera di centralizzazione non vengano meno le sedi territoriali.